ciao ragazze come avete visto dal titolo questo è il pacco avon che mi è arrivato allora io avevo preso vi faccio vedere e lo tenevo nella perché lo fa il pacco ragazze l'ho buttato perché per non portarmelo giù dalla scaletta è un casino e quindi avevo messo tutto dentro all'abuso ho detto devo fare il video devo fare il video e quindi vi faccio vedere che cosa ho preso che cioè che cosa ho preso e poi ci sono delle cose che devo dare anche di fronte ve lo faccio vedere ci sono dei prodotti che io dovevo pure consegnare a queste qua di fronte allora questo qui allora avevo preso una specie di tempo libero una specie di tuta ragazze che l'ho data mia sorella perché non mi va perché io pure il pigiamino vedete io sono unica non lo so ragazze ho sbagliato la taglia mi ho preso la m ma nella mia mente io avevo rimosso che avon tiene le taglie perfette quindi invece di pigliare la s la 42 ho preso e quindi mi andava ballando quella tuta quella cosa che peccato però ho visto che anche il pigiamano è grande perché ho fatto lo stesso errore pure con il pigiamino però il pigiamino ragazze mi metto io due punti qua pure questo a monica non glielo do ma perché perché avevo rimosso a volte ci sono le taglie finte e invece avon è perfetto ora lo sciacquo un poco perché li sciacquo sempre i panni anche nei negozi e quindi ragazzi è troppo carino guardate quanto è bellino e almeno il pigiamino ragazzi non fa niente ci do due punti a destra e a sinistra quando devo stare in casa quello lì si doveva uscire andavo ballando dentro e questa è la magliettina io lo sapete io come si chiama l'abbigliamento avon mi piace un sacco ragazzi ve lo devo proprio dire sinceramente io l'abbigliamento avon sono rimasta molto contenta allora poi ho preso questa borsettina qua troppo carina che vi dico la verità non so se la la do a mia come si chiama a mia nipote che riesce pazza per le borsette e quindi non lo so forse gliela do a federica perché cari io pensavo che era un po più grande perché le borse così piccole ragazze cioè lo sapete tengo sempre quella lì della prima classe che mi aveva regalato mia la sorella dei secoli fa e non la lascio più quella borsa però pensavo che era un poco più grandicella perché qua non ci vediamo un poco se no la avevo preso questi campioncini infatti ce li devo far trovare lì perché me l'aveva chiesto di fronte me l'avevano chiesto di fronte come si chiama daniela imma e quindi questi campioncini mero curiosa pure io perché qua dove vedo la vitamina c ci sto io a questa questo siero c'è questa cosa che neanche addirittura la protezione è solo 50 comunque deve essere buonissima perché ora ho visto pure il coniglietto e quindi che non è testata su animale in poche parole e niente ragazze devo provare vi faccio sapere ma mi devo provare un campioncino 1 2 3 4 5 7 8 9 10 e quindi due gliele devo dare di fronte poi ragazze allora questo mi è stato ordinato di fronte perché mi avevano chiesto anna prendi a piacere un un siero per i capelli siccome c'era l'offerta ragazze c'era l'offerta di questi due stavano in offerta e e io mi trovo con questo l'avevo già provato di avona ragazze veramente allora lì eccolo qui è lui è lui allora da mettere il conigliato da tutte le parti e la preparazione niente ragazze questo è troppo e questo è buono io già avevo usato di avon si fanno i capelli troppo belli questo qua e questo qua invece vediamo quest'altro tiene sempre le stesse formulazioni dallo scatolino e poi ragazze questo qua invece io non questo qua non l'avevo mai provato e questo invece sempre per i capelli ristrutturante però e tenete presente che sono 30 ml e mi pare che in offerta non mi ricordo ragazze quanto costava ma non più di tutti e due 6 euro quindi ci stava una bella una bella offerta quindi questo è quello di fronte devo portare di fronte e questo invece è mio per i capelli poi mi hanno allora poi mi hanno preso poi dell'avoncar la sapete la moncar la linea questa crema mani alla maniglia e dice che c'è pure la vitamina e vabbè l'inci lo sapete gente che ve lo dico e quindi vi ho detto ci sono dei prodotti e prodotti però ragazze di fronte se li prendono perché di fronte che se li prendono i prodotti perché loro ci stanno le persone che amano lavon poi allora questo qui invece io lo devo portare a mia sorella queste due in uno due in uno quindi è sia due in uno è uno shampoo mamma mia non si è troppo piccolo perché ragazze questo è uno shampoo due in uno e sia shampoo che balsamo io non me ne ero accorta ragazze e mi sono proprio quello con la fragola e glielo porto a monica mia sorella questo glielo porto a mia sorella così se lo porta perché tanto lei deve andare a mare magari se le tanto loro comunque stanno con la macchina quindi se lo consuma a mare per i capelli poi allora questo stavano in offerta ragazze non mi trovo ragazze c'è qualcosa che non va allora ragazze non ho capito perché io non avevo c'era lo ah ragazze forse l'offerta sono io che non ho visto bene forse c'era l'offerta uno grande uno piccolo perché a me mi è arrivato uno grande uno piccolo e c'era l'offerta comunque a 10 euro e qualcosa c'era l'offerta comunque questo qui me l'hanno ordinato di fronte qui perché lo hanno visto le offerte quindi questo qui lo devo portare di fronte però è strano ragazzi avevo visto un litro mi è arrivato il piccolo a me vabbè non fa niente questo ragazze è troppo bello questo è l'ucidio bianco e questa tipologia di bagnoschiuma che c'è un giacca a davide poi specialmente ora che viene il caldo questi qui si consumano come l'acqua fresca questi li devo dare di fronte e però sono rimasta male perché ho l'offerta era uno uno piccolo e uno grande e io non avevo letto bene o erano tutti e due grandi e mi è arrivato il piccolo non lo so poi chito la sponsor questa cosa e questo è mio poi allora questo l'avevo preso per l'avevo preso per me questo è l'avo sensi che mi piace un sacco però non ho capito io avevo preso non ho capito ragazze se a questo è il sapone se non mi sbaglio e ragazze questo è il sapone mani all'arancio perché quando io vedo ora quando vedo cose di arancio mi piace un sacco e quindi qui però no io non ho capito se avevo preso il sapone o avevo preso il bagnoschiuma anche questo ragazze questa linea pure buona vedete c'è il coniglietto non testate su animali e questo è il sapone lo metto dentro al bagno poi ragazze non tenevo più smalti allora ragazze non tenevo più smalti e mi sono scocciata come vedete io non mi metto lo smalto vedete perché si toglie il giorno dopo mi ricordo proprio ragazze questi erano proprio questi questi gli smalti avon allora questi due sono gel ve li faccio vedere ma pure stavano in offerta ragazzi lilla poi vi faccio sapere pure quanto durano anche questi con il coniglietto non testati sugli animali questo fatto del coniglietto mi piace un sacco di avon e poi c'è stavano in offerta ragazze e poi questo qua rosa quindi ragazze io lo sapete quando adoro questa tipo di smalti non mi fate pensare che tengo la lampa la tengo tutto là dentro e non so farmi il semipermanente che peccato poi ho preso questo qui che asciuga in 60 secondi se ho fatto no ti prego non mi direi che ho preso gli stessi colore ah no no ragazze questo è lì è viola questo qua no io mi pare che la speriamo che non ho preso gli stessi colori mamma mia quasi lo no ragazze meno male non sono proprio uguali allora questo è più chiaro e questo va più nel rosa meno male mannaggia questo è quello di 60 secondi poi vi faccio sapere ragazze infatti non vedo l'ora di provarli perché io mi ricordavo troppo bene che con l'avon mi trovavo un sacco questa che cos'è allora ragazze e poi ah questo qui me l'hanno ordinato pure di fronte perché tengo tutti e tengo questi io ho fatto vedere il pdf questo qui infatti lo volevo provare pure io però c'è i brillantini brillantini a me non mi piacciono meno male che l'ho visto e quindi questi qui quindi questi li devo portare di fronte poi ragazze ci devo portare pure due campioncini metto qua e poi ragazze ho preso questa candela questo qui lo sapete che se tu prendi questi prodotti pure e per la violenza sulle donne una parte del ricavato va all'associazione dell'avon l'associazione questa pure è una cosa molto bella poi le candele lo sapete quando faccio gli smr troppo belle le candele l'ho aperta secondo me tutto il contrario mamma mia che odore ragazze no vabbè ragazze che bello mamma mia che odore mamma mia com'è profumata mamma mia speriamo che la riesca a tenere perché è profumatissima qua dietro vedete c'è il triangolo tutte queste cose non si deve accendere e quindi ragazze eccola qua com'è bella ragazze è profumatissima ragazze speriamo che non mi viene la tosse queste le possiamo lo levo mamma mia come profuma forte molto molto forte perché quando non sono a base di soia mi vanno alla gola però era troppo bella ragazze anche se la devi tenere così senza accendere profuma già figurati se la accendi come profuma sarà molto profumata ho i miei dubbi che la posso accendere perché sono allergica lo sapete alle cose troppo profumate e niente ragazze vi ho fatto vedere queste cose perché così ho fatto il video Avon questi devo tutti portare di fronte vi ho spiegato sono caduti tutti i cose a terra e niente ragazze spero che questo video ragazze io poi mi comporto di conseguenza se le persone vi fanno gli ordini vedete Avon e niente ragazzi comunque vedete le aziende lo sapete che sul mio canale io parlo di cosmetica principalmente detersivi cosmetica tutte queste cose perché mi piace portare questa tipologia di video prossimo video non